Presidente, Marche, Toscana e Umbria insieme a Bruxelles per fare più squadra d'ora in poi? Beh, questa è una tappa importante di un percorso e cammino che stiamo facendo assieme, di una forte collaborazione in quelli che sono i settori più importanti della vita delle regioni, dalla salute e al welfare, allo sviluppo economico, all'ambiente e ai servizi. Uno di questi è essere assieme nei confronti della Comunità Europea, in un'unica sede, con un unico staff, coordinare progetti, lavorare in comune e fare in modo che questa aggregazione parta da cose molto concrete che ci parlano ovviamente di sobrietà rispetto alla gestione delle risorse, di maggiore efficacia dell'azione di ognuno, di un partenariato naturale tra territori che, pur avendo una storia e un'identità diversa, condividono tanti obiettivi e tante politiche. Quindi la voglia di far crescere dal basso questa collaborazione istituzionale che è tanto apprezzata dai cittadini. C'è un cantiere di riforma aperto in Italia. Il messaggio che potete dare è che, stando insieme, si possono portare più opportunità e più benefici ai cittadini? Ma è anche che il rispetto alle riforme, che abbiamo visto qualche volta declinate, diciamo, ottima in termini di principi, poi con una pratica che cadendo dall'alto rischia di non essere altrettanto efficace, almeno quante erano le premesse. Facendola nascere nel verso giusto, quindi dalle cose concrete, non solo portiamo avanti e promuoviamo una riforma di alto profilo, ma diamo a questa riforma un contenuto forte, un'efficacia, in modo che, diciamo, le premesse, l'idea di modo diverso di lavorare corrisponda poi a una sostanza, un'efficacia che dia risultati. Così abbiniamo all'idea positiva della riforma anche un modo utile di praticarla con risultati concreti. Perfetto. Bene, comunque, Presidente, quali sono i primi passi concreti per questo lavoro comune? Dopo la sede unica a Bruxelles procederemo per un lavoro importantissimo, ovvero un unico numero per emergenza che l'Europa ci chiede il 112, anziché organizzare ognuno la propria sede, lo faremo in unica sede nelle Marche che lavorerà per tutte le regioni. Un altro aspetto, l'aggregazione sugli acquisti, sappiamo quanto è importante avere centri unici di acquisto, e anziché produrlo uno per regione, lavoreremo per un unico punto, molto probabilmente sarà in Umbria, in termini fisici, poi lavorerà con soggetti che stanno in varie regioni, che ci permetterà di unificare gare importantissime, parliamo di milioni e milioni di euro, con un risultato di dare qualità alle gare e poter risparmiare. Quindi atti che proprio parlano in maniera diretta, quotidiando le persone, fanno capire il valore di questa collaborazione. Perfetto.